... Atto intimidatorio nei confronti di un imprenditore algherese che ieri mattina ha trovato una testa di asino e una cartuccia di fucili appesi all'ingresso della propria agenzia funebre. Sull'episodio indagano i carabinieri. Dopo la revoca del divieto di balneazione a Lido, gli enti coinvolti continuano a lavorare per trovare soluzioni per la rete fognaria e il sistema di depurazione, da evitare le situazioni vissute questa estate con una pessima pubblicità per la città. Successo tutto algherese nelle acque di Stintino alla 33esima edizione del Trofeo Challenge, legge regata di Vela Latina, Presidente della Repubblica, a trionfare la lancia catalana al Ghero. Un saluto a tutti voi telespettatori di CatalanTV, buon inizio di settimana. È la cronaca ad aprire l'edizione di oggi del nostro telegiornale e con un atto intimidatorio nei confronti di un imprenditore algherese che ieri mattina ha trovato una testa d'asino, una cartuccia di fucile appesi all'ingresso della propria agenzia funebre in Viale Sardegna. La vittima della macabra minaccia si è allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Alghero che hanno aperto le indagini per risalire all'autore e individuare le cause del lato intimidatorio. Sentito dagli inquirenti, l'imprenditore avrebbe dichiarato di non avere alcun sospetto, escludendo di aver mai avuto problemi in ambito lavorativo o in ambito privato. E sempre per la cronaca, circa 4 ettari di terreno sono andati in fumo nella mattina di sabato a causa di un incendio divampato in un terreno ad Olmedo. Sono stati attimi di apprensione e paura per la vicinanza delle fiamme alle case, visto che il terreno in questione si trova proprio nella parte finale del paese, tra le abitazioni e la vecchia strada che conduce a Sassari. Sono stati i vigili del fuoco del comando di Via Napoli a intervenire per lo spegnimento, insieme a loro anche la protezione civile e la guardia forestale. Le operazioni sono andate avanti per quasi due ore. E oggi torniamo anche sull'emergenza riguardante la rete fognaria e il mare algherese. Dopo la revoca del divieto di balneazione a Lido, gli enti coinvolti continuano a lavorare per trovare soluzioni che evitino il ripetersi delle spiacevoli situazioni vissute quest'estate e della pessima pubblicità per Alghero. In programma ci sono una serie di incontri nei prossimi giorni. Anche questa settimana l'agenda è fitta di impegni. Certo è impensabile di risolvere in pochi giorni i problemi legati alla rete fognaria e alla mare gialla che stanno disegnando un'immagine non certo esaltante del nostro mare e della città. Criticità correlate tra loro che si sono amplificate nella stagione estiva e nel periodo nel quale la riviera del Corallo vede aumentare in modo esponenziale la popolazione. Allo stesso tempo bisogna trovare delle soluzioni nel minor tempo possibile per fare in modo che chi ha visitato Alghero quest'anno non decida di cambiare destinazione per le proprie vacanze dopo quanto accaduto in questi mesi tra divieti di balneazione, marea gialla ma anche scarsa pulizia dell'arenile. Nel frattempo prosegue il secondo programma, il lavoro di svuotamento messo in funzione delle vasche di polmonazione e gli interventi pianificati sugli scarichi e sul canalone. Su quest'ultimo in particolare bonifica e videoispezione. Venerdì nel vertice in programma con Abbanoa si farà il punto della situazione. Il giorno prima sono in programma le conferenze di servizi sul depuratore. Domani invece ci sarà un incontro con la di Consum per affrontare gli aspetti riguardanti il sistema idrico fognario e della depurazione dopo le forti preoccupazioni espresse dall'associazione di categoria. Secondo quanto dichiarato dal sindaco nei giorni scorsi con una nota, infine si attende che venga firmata la convenzione tra Egas e Abbanoa per sbloccare finanziamenti per il sistema di depurazione. In tal senso dovrebbero arrivare circa 4 milioni di euro per il quarto sedimentatore nell'impianto di San Marco per i lavoratori sul depuratore di Olmedo che eviteranno gli scarichi sul rio Filibertu e l'intervento sul potabilizzatore di Montagnese. Alcuni volontari si sono presentati ieri di prima mattina al ponte di Calabona per pulire il Cantar, un tratto della litoranea al Gherobosa troppo spesso deturpato dalla presenza di rifiuti di ogni genere. I volontari hanno pubblicato su Facebook le prime foto delle pulizie effettuate per alcune ore sul posto ed è proprio sul social network che è stata pubblicizzata l'iniziativa e si è potuto reclutare i volontari. Recuperato una grande quantità di rifiuti raccolti in decine di sacchi neri e centinaia di bottiglie di vetro ma tra le scarpate della strada panoramica purtroppo pare sia stato anche abbandonato dell'Eternit. Ai volontari che hanno dedicato la giornata di domenica alla pulizia di uno dei luoghi più belli del territorio un plauso per la lodevole iniziativa mentre va stigmatizzata ancora una volta il comportamento incivile di chi abbandona i rifiuti tra le strade e in spazi verdi. A tal proposito da segnalare anche le condizioni in cui sono stati lasciati diversi angoli della pineta di Maria Pia come sempre dopo il fine settimana. Il Partito Democratico di Alghero comunica che domani martedì 1 settembre alle ore 19.30 nella sede di Via Mazzini si terrà un incontro con gli operatori sanitari sindacati operanti nelle strutture ospedaliere di Alghero per discutere della nuova riforma sanitaria sulle ricadute sui due ospedali cittadini. L'iniziativa organizzata dalla Segreteria Cittadina del PD insieme al gruppo consigliere cittadino è finalizzata a produrre proposte di modifica da proporre al Consiglio regionale e ai suoi rappresentanti del territorio. E raccogliamo oggi una segnalazione arrivata dalla Presidente della sezione inglese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane che segnala l'uccisione di due e quattro zampe in zona San Marco. Si tratta di due randaggi che solitamente ricevevano la visita di una volontaria e di un'associazione che portava loro da mangiare. Alcuni giorni fa la macabra scoperta con due corpi senza vita ritrovati ai bordi della strada. Non abbiamo voluto farvi vedere le immagini per non urtare la vostra sensibilità. Inizialmente si è pensato ad un avvelenamento ma a quanto pare sarebbero stati investiti così come un terzo cane che fortunatamente si è salvato e che è di proprietà di un pastore secondo quanto rivelato dal microchip. La referente della Lega Nazionale del Cane sottolinea come non sia il primo episodio di questo genere accaduto nella zona di San Marco. Soltanto alcuni giorni fa sarebbero stati avvelenati sei cani due dei quali fortunatamente salvi. Senza dimenticare l'episodio del giugno scorso del cane ritrovato da una pattuglia dei barracelli che era finito in un vascone pieno d'acqua da parte della Bianchi. Anche la richiesta all'attuale amministrazione di risolvere l'annoso problema della mancanza di un canile comunale considerando che l'unico presente nel territorio è quello della comunità. è giunto il momento di fare una pausa per la pubblicità torniamo tra poco. Ritorniamo in studio come è la tradizione in questi giorni hanno preso il via i riti di preparazione alla festa delle Marie nella chiesetta di Nostra Signora della Speranza oltre agli appuntamenti religiosi sono previsti diversi eventi che animeranno varie serate da qui e fino all'8 di settembre. Il Comitato 2015 invita a partecipare alle festività in onore dell'As Marias le Marie che si terranno nella chiesetta medievale di Nostra Signora della Speranza sulla strada al Gherobosa. I festeggiamenti religiosi sono cominciati ieri 30 agosto e dureranno fino al lunedì prossimo 7 settembre. prevedono il Rosario, la Novena e la Santa Messa delle 18. Domenica 6, sempre alle 18 sarà celebrata invece la Messa Solenne in suffragio di tutti i defunti. Lunedì 7 e martedì 8 spazio anche festeggiamenti civili che inizieranno alle ore 19.30 con la gara allo Spratz della Tradizio Algaresa a cura dell'Associazione Culturale e Gastronomica Saber e Sabor con premi per ogni partecipante. Per informazioni e descrizioni si può contattare il 347-3455-464. Alle ore 21.30 il gruppo Amiz della Muraglia presenterà il proprio repertorio e animerà la serata. Martedì 8 il programma prevede la Messa delle 9, delle 10.30 e delle 18 quest'ultima seguita dalla suggestiva processione con la Benedizione dei Campi accompagnata dalla banda musicale Dalerci. Alle 21.30 la serata si concluderà con il concerto organizzato dalla Plataforma per la Liengua con i DDoS Paragliez Marc Serrat e Carles Belda ospite della serata Angelo Maresca Lubal B Nelle serate conclusive è previsto il servizio bar con piatti freddi e arrostita la manifestazione è il patrocino dell'assessorato al turismo del Comune di Alghero e della Fondazione Meta il Comitato Madonna della Speranza coglie l'occasione per ringraziare quanti stiano collaborando per l'organizzazione e tutti coloro che vi parteciperanno. Migliaia di persone hanno affollato le stradine del Centro Storico di Olmedo per la due giorni di Domose in Carrelas tra stand e prodotti tipici e spettacoli emozione per la vestizione e la sfilata del gruppo Boys & Merdules di Ottana i visitatori si sono intrattenuti a lungo tra gli stand alla ricerca delle 17 tappe di degustazione che hanno offerto il meglio della cucina tradizionale molti gli artigiani presenti per Olmedo produce con le antiche testimonianze delle arti e dei mestieri locali forte richiamo turistico ha suscitato anche la mostra di pane allestita nella chiesetta romanica di Nostra Signora d'Italia e la speciale anteprima del presepe 2015 bagno di folle in serata per il grande concerto del cantautore almedese Nunzio Isoni che ha coinvolto tutta la popolazione con le sue stupende poesie sarde in musica in veste di chitarrista anche l'assessore alla cultura e al turismo Leonardo Isoni ma a partecipare è stato soprattutto il pubblico che ha seguito e cantato con passione le canzoni con le immagini girate dagli appassionati sarà realizzato un documentario dell'evento a firma del regista Marco Antonio Pani ieri serata conclusiva dedicata al folk con i cantadores a Gitterra di Olmedo l'organitista Pier Paolo Vacca il concerto dei Parada Poblesec gruppo di ottimi musicisti sardi e spagnoli che per l'occasione ha presentato un progetto inedito successo tutto giallo-rosso nelle acque di Stintino la lancia catalana Alghero è infatti trionfato alla 33esima edizione della regata di vela latina Trofeo Challenge Presidente della Repubblica la 33esima edizione del Trofeo Challenge Presidente della Repubblica la storica regata della vela latina di Stintino è stata vinta dalla lancia catalana Alghero con a bordo Alessandro Cabras Domenico Giorico Alessandro Balzani Antonello Maciotta Gaetano Loy e Alessandro Nuges condizioni meteofavorevoli sia nella prova di sabato che in quella di domenica caratterizzate da una leggera brezza proveniente da nord-est che hanno consentito alla flotta di percorrere il classico percorso costiero con arrivo nella rada della Pelosa Alghero la barca porta colori dello Yacht Club Riviera del Corallo ha dominato entrambe le prove vincendo di misura su tutte le vele latine in gara e aggiudicandosi così il prestigioso trofeo mai vinto sino ad ora da una barca algherese Alghero vince anche la categoria delle lance da regata mentre Auriga di Lorenzo Nuvoli proveniente da Porto Torres ha vinto la categoria delle lance da tradizione ad aggiudicarsi la prima posizione della classe dei gozzetti e capo amato anch'essa della flotta di Porto Torres con al timone l'armatore Pietro Fois Santa Barbara il gozzo algherese condotto da Carlo Muresu coadiuvato nella tattica ad Antonello Porchedu sale sul primo gradino del popolo della classe dei gozzi a vela latina di oltre sei metri e mezzo alle sue spalle Ishtar il gozzo di Giorgio Macioccu con al timone Gian Mario Catta che nella prova di domenica ha compromesso la propria prestazione sin dall'inizio della regata urtando la boa di partenza apprezzata da equipaggi visitatori la mostra vele latine e libri di mare aperta durante i giorni della manifestazione presso il porto Mannu e le fotografie di Corto Quartese sui viaggi mercantili grande soddisfazione da parte dell'associazione a vela associazione vela latina e univet unione italiana vela tradizionale per la buona riuscita dell'evento organizzato con il patrocinio del comune di Stintino da segnalare la presenza di Sarata il sardinal catalano proveniente dalla costa brava l'appuntamento adesso è per il prossimo anno a Stintino come di consueto l'ultimo fine settimana di agosto proseguiamo con lo sport in merito all'intervista realizzata con l'allenatore del Fertili Angelo Bardini è arrivata in redazione una replica firma di Giuseppe Giovanni Fadda padre del giocatore Alessio Fadda dopo le parole dell'allenatore gialloblu che aveva ipotizzato un volontario riposo annuale nello specifico scrive Fadda è bene chiarire che il calciatore Tesserato Fertilia era in trattativa di prestito ben consapevole la presidenza del Fertilia con diverse squadre locali militanti in serie D ed eccellenza ad esempio Lanusei Castiadas Valledori e Tergu è non certo per volontà dell'atleta queste non sono andati a buon fine e di questo in parte si legge ancora è già stata data notizia nella cronaca sportiva il giovane calciatore Alessio Fadda insieme ad altri rispettabili calciatori allenatori si legge ancora ha sempre giocato con serietà ed entusiasmo per i colori della propria squadra ma considerati gli ultimi eventi valuta con molta attenzione ogni possibile plausibile condizione nei giorni scorsi si è svolta la consueta gara di nuoto organizzata dalla dinamica che ha coinvolto bambini dai 3 sino ai 14 anni a conclusione dell'attività estiva in spiaggia sentiamo il responsabile Giovanni San intervistato da Chico Solinas eccoci qua in compagnia del maestro istruttore di nuoto nonché personal trainer Giovanni San dinamica siamo qua stamattina ad Alghero per quale occasione? l'occasione è appunto una gara di nuoto che si ripete ormai dal 98 con la nostra scuola di nuoto dinamica con i bambini dai 3 anni ai 14 anni che si sono esibiti poc'anzi come avete visto con delle performance di nuoto con i vari stili fino ad arrivare a vari livelli in base alle loro capacità dai bambini di 3 anni in poi sono dei bambini appunto che vengono da noi da anni e altri nuovi dai 3 anni appunto che hanno iniziato quest'anno che appunto si sono hanno fatto attività con noi tutta l'estate da metà giugno fino ad oggi faremo delle belle premiazioni con coppe medaglie di plomini e poi un bel rinfresco per rigenerarci dopo questo sole stupendo di oggi in quanto tempo si arriva a nuotare bene quando un bambino non ha mai nuotato? beh i bambini dai 3 anni iniziano a fare ambientamento acquattico sino poi arrivare mal mano nel tempo in base alle proprie capacità un bambino di 5 anni inizia già a fare uno stile libero un dorso e uno stile libero sì diciamo che abbiamo bambini di 5 anni che ci fanno bene il dorso e lo stile libero e poi a seguire andare alla rana al delfino e stili combinati più avanti quanti sono i bambini che oggi hanno partecipato? hanno partecipato circa 80 bambini abbiamo bambini anche non di Alghero siamo contenti anche di questo perché molti turisti vedendo la scuola di nuoto ci affidano i loro figli senza conoscerci perché quelli di Alghero bene o male ci conoscono c'è una storia ormai 24 e passa anni che abbiamo un'attività qua ad Alghero di una polisportiva però appunto ci dà soddisfazione i bambini che vengono da Milano dalla Francia e così via che conoscono questa stupenda iniziativa ma ci affidano i loro bambini per chi volesse intraprendere questa attività? beh facilissimo basta avvicinarsi da noi chiedere informazioni e li inseriamo subito nel gruppo sì e i bambini e il nuoto chiudono l'edizione di oggi del nostro telegiornale l'informazione di CatalanTV ritorna puntuale domani alle 13.30 io intanto vi ringrazio per averci seguito arrivederci l'informazione di CatalanTV per averci seguito di CatalanTV l'informazione di CatalanTV l'informazione di CatalanTV